Ecco è arrivata la macchina, facciamo vedere se si apre la porta, ecco Marco Sturamba che saluta tutti quanti con la sua età, raccogliamo subito le immagini, chiediamo un saluto per questo primo appuntamento dell'estate dell'Inter che dunque con il mercato che entra nel vivo Marco Sturamba salutato, adesso procederà con le visite mediche ancora, poi sede firma del contratto